Cosa ne penso di Ushino Ko? Allora, penso che Ushino Ko sia un'opera d'arte stupenda, dir poco. Diciamo che tra poco arriva il sesto episodio. Mi sono già spolerato la parte inglese, perché purtroppo volevo vederla assolutamente prima che arriviamo in sub in italiano, che è già in ritardo di un giorno, e mi sembra stanno che non è arrivata. Penso che sia un capolavoro di design, ma anche di storia, stupefacente, storia, dico per ora un 9, perché non ho vista tutta la storia, quindi per ora è 9. Voto di come è disegnato, direi 10. Non ho niente da dire, è proprio disegnato da Doc. Non c'è stato nessun problema di visuale, proprio niente. Divertimento, do 8 per ora. Personaggi di carattere, do 10, perché ognuno ha un carattere suo e una sua storia triste. Ci sono delle scene in cui si vede la felicità del personaggio, ma anche dei personaggi secondari, e si scopre il lato scuro dopo delle loro personali, cioè le loro frustrazioni, le loro tristezze, le loro incertezze per il suo proprio futuro. Quindi penso che il voto totale di Oshinoko per ora, penso che sia un 8.5, o un 9 diciamo. Comunque è un bel capolavoro, ve lo consiglio di guardarvelo. Se non lo avete guardato, scrivete Oshinoko, guardate il primo episodio, che dura più o meno 90 minuti, cioè quasi quanto un film, guardatelo e non ve ne pentirete. Il primo episodio è il più fondamentale, perché sarà l'inizio della storia.